martedì 31 ottobre un'energia demoniata invaderà l'antico borgo di lorenzana e la notte delle streghe si trasformerà nei vicoli del terrore dalle 18 e 30 in ogni angolo dell'antico borgo si aggireranno terrificanti streghe cadaverici vampiri e putrescenti zombie partecipa al concorso la maschera più terrificante si bolla con il radio stop party ospite regina miami da quest'anno la novità scarica l'app gratuita e salti la fila servizio navetta gratuita potenziato info e programma su www.vicolidelterrore.it